Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per lavori tra Valdarno e Incisa-Reggello in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per incidente nei pressi di Grosseto Sud in direzione Sud. Sulla statale 3 Bistiberina riduzione di carreggiata per un incidente al chilometro 133,50 a Sansepolcro Sud in direzione del raccordo Viterbo-Terni. Sulla statale 12 della Betone del Brennero senso unico alternato per frana al chilometro 68,950 tra Popiglio e La Lima. Sulla strada provinciale 34 via di Rosano senso unico alternato per il ripristino di una frana al chilometro 7,500 in località Vallina nel comune di Bagno e Ripoli fino al 23 marzo. Muoversi in Toscana Inf, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!